I locali della stazione delle autocorriere di Arco si stanno svuotando. Le associazioni che hanno avuto sede per anni all'interno dello stabile ottocentesco posto in Viale Roma, tra le quali tre filodrammatiche arcensi, la Croce Rossa e la compagnia Schützen di Arco, hanno ricevuto nei giorni scorsi la disdetta del contratto di comodato gratuito concesso loro dal Comune, che ha comunicato definitivamente la necessità di rientrare nella piena disponibilità dell'immobile. Con tempi più o meno rapidi, le associazioni stanno dunque liberando i locali nei quali sono stati stoccati negli anni molti materiali. Alcune associazioni, con ogni probabilità, troveranno spazio a Villa Tappainer, negli ex uffici dell'azienda sanitaria che già da tempo sono finiti all'ex Armani, dove nei mesi scorsi è stato trasferito il coordinamento 60 e più. Altre stanno ancora valutando con l'amministrazione delle sedi consone alle loro attività, negli spazi pubblici concessi a titolo gratuito dal Comune. L'immobile dell'ex autostazione verrà completamente ristrutturato e valorizzato sotto il profilo turistico e l'iniziativa sarà gestita direttamente da AMSA, a cui la Giunta ha già trasferito da qualche tempo la somma necessaria per dare seguito all'operazione.